Un treppiede non è solo un supporto per non fare fotomosse, ma può essere uno strumento per ampliare le nostre possibilità creative. A diversi tipi di fotografia corrispondono differenti coppie testa treppiede, ma alcune soluzioni universali sanno coprire un'ampia gamma di esigenze. Una di queste è certamente incarnata da Genesis C5 Kit. Siamo innanzitutto di fronte a un treppiede con gambe a tre sezioni allungabili in fibra di carbonio. Alla leggerezza della fibra di carbonio si unisce la flessibilità di un treppiede che da 24,5 cm di altezza può arrivare fino a 194 cm. Il treppiede pesa poco più di 2 kg e può sopportare carichi fino a 30 kg, senza dunque temere di fare da supporto a reflex professionali con grosse ottiche tele. Nel kit è incluse la testa a sfera BH40, anch'essa capace di portare 30 kg di peso. Dotata di frizione regolabile, risulta comoda da utilizzare anche per l'inseguimento dei soggetti nella caccia fotografica e soprattutto per filmati con inquadrature stabili e sequenze fluide. Dotata di sistema di aggancio compatibile con lo standard Arca Swiss, offre livelle su due assi e una bolla circolare, oltre a base graduata ruotabile per le panoramiche. Una delle particolarità del treppiede è quella di avere una delle gambe staccabile e utilizzabile come monopiede. Si riconosce qual è delle tre dall'impugnatura in spugna che ne migliora la presa quando utilizzata come supporto a una gamba sola. Le tre gambe terminano con dei piedini in gomma rimovibili, lasciando spazio a piedini in metallo, per una maggior stabilità su fondi difficili. Come spesso accade, la colonna centrale offre un uncino per l'aggancio della borsa fotografica o di appositi pesi per stabilizzare il sistema. In sintesi siamo di fronte a un kit che include testa a sfera regolabile, treppiede con monopiede staccabile e borsa per il trasporto molto versatile, che pur utilizzando il carbonio come materiale costruttivo delle gambe permette di avere un cavalletto leggero a un prezzo non troppo pesante.